con giovanni colella verso la partita in casa con la san benedettese eccoci per fare anche un po il punto a freddo sulla sconfitta di imola intelligentemente lei ha detto in conferenza stampa anche delle sconfitte dai momenti difficili bisogna prendere ciò che serve sì nella vita in generale probabilmente sono i momenti difficili che ti danno che ti danno più spunti c'era ulio velasco che diceva che la sua generazione è venuta fuori dalla dalla dittatura argentina perché il momento difficile che creava i grandi pensatori e grandi i grandi personaggi insomma sono sicuro che come sempre da questa sconfitta prenderemo prenderemo sicuramente gli aspetti che ci servono per migliorare ci sono ancora diverse cose che possiamo migliorare e onestamente al di là che ritengo positivo il cammino fino adesso questo mi dà stimoli perché penso che non siamo ancora arrivati al massimo ecco poi in conferenza stampa si diceva ma ci sono i primi tempi e i secondi tempi ci sono degli atteggiamenti diversi lei ha fatto un'analisi interessante so ne ha parlato anche con i ragazzi ma sì è una cosa che ho maturato così ultimamente poi nel corso degli anni un pochino di esperienza mi ha portato a ragionare come si diceva prima anche le grandi cose positive come per noi adesso giocare al menti davanti alla nostra gente e crea dopo un piccolo aspetto negativo su cui bisogna lavorare cioè che quando magari andiamo fuori casa non sempre giochiamo al menti e anche lì secondo me bisogna esprimere le stesse cose quindi uno step di crescita quindi la simbiosi con il pubblico è importante però bisogna non adagiarsi a questo simbiosi col pubblico è fondamentale e si vede bisogna ricreare anche quando andiamo su campi diversi una non una simbiosi perché ovviamente i nostri tifosi sono sempre presenti però non puoi pretendere che l'ambiente sia uguale a quello del menti e quindi quello che manca bisogna crearlo noi bisogna essere bravi a crearlo noi io lo staff e i giocatori ecco veniamo alla san benedettese insomma una squadra che non ha una sua identità precisa fino adesso tante carte non sono scoperte lei dice il mio avversario in panchina fa il gioco delle tre carte ma è un allenatore esperto e quindi giustamente proprio come si diceva prima in un momento difficile cercherà di trovare l'assetto giusto e di sorprenderci in qualche maniera quindi ci aspettiamo una gara comunque combattuta perché l'avversario è un avversario di qualità all'interno della attuale posizione classifica e niente speriamo che non trovino la quadratura contro di noi